BELLA RAGAZZUOLI QUI E' BUTTI IN NOVI Eccoci qui tornati in questo nuovo video sul tempo delle sponsorizzazioni Scusate se per circa 3 giorni non ho portato video Però veramente ragazzi In questo periodo ho veramente tantissima roba da fare Tra lavoro e feste pure Non c'ho mai tempo per fare niente Vi ricordo che se volete essere sponsorizzati Andate a seguire le regole che ci sono Nell'episodio numero 8 del tempo delle sponsorizzazioni Comunque passiamo subito alle sponsorizzazioni Oh no Il primo canale che andiamo a sponsorizzare ragazzi E' quello di Danio Roxas Lui diversamente dalla maggior parte dei canali che vado a sponsorizzare Fa dei piccoli video molto divertenti ragazzi Vi consiglio veramente tanto di passare sul canale Perché beh pisciate veramente sotto E risate Stai ragazzi io con diamo voce alle immagini E parole inglesi che in italiano fanno schifo Me so pisciatoso Comunque le informazioni possiamo trovare Sono sempre stato affascinato da tutto ciò che riguarda il mondo di Youtube Sin da quando avevo 13 anni Quindi adesso alle là di 19 anni ho avuto la brillante idea di aprirne un canale tutto mio Tra una partita della Playstation e le uscite con gli amici Mi vengono in mente idee Posso azzardarmi e dire originali Sì perché se devo portare un video voglio farlo con le mie idee E non copiando gli altri Youtuber Prendere spunto è bene Copiare no E ragazzi io do pienamente ragione Pienamente ragione a Danio Perché comunque se tu vuoi essere conosciuto per qualcosa Non puoi essere conosciuto per una cosa che fa un'altra persona Quindi ragazzi su questa cosa dobbiamo Imparecchi dobbiamo imparare Comunque secondo canale Grande Danio Il secondo canale di oggi è di The Grizz Lui è un ragazzo che porta video principalmente su Prograb Infatti fa video con tutti i suoi amici E portano queste partite che raga Va ammazzare dai risate Sentite strillare Sentite tutto e di più sentite E vi invito veramente a passarci perché raga Veramente è troppo divertente È troppo divertente Comunque nelle informazioni troviamo Cosa stai aspettando? Come non vuoi iscriverti? Guardo nuovi video Cambiarai sicuramente idee Lo so Sono molto modesto Oh sì Grande Grizz E grazie veramente di commentarmi sempre tutti i video Un bacione Il terzo canale di oggi è di Marco Lino Show Questo ragazzo porta video su tre giochi principali Minecraft, Call of Duty e Clash of Clans Altra volta anche FIFA Lui gioca su Playstation Quindi andate da lui Magari vi potete pure fare qualche bella partitella insieme Non si sa mai Bella a tutti ragazzi Benvenuti sul canale di Marco Lino Show Su questo canale ci saranno molti video dedicati ai videogiochi Gameplay e non solo Vi ricordo di lasciare sempre un bel mi piace E un bel commento Che non fa mai male E che dire Bella Bene ragazzi L'ultimo canale di oggi invece è di Palaya03 Questo ragazzo porta video su Clash of Clans e Minecraft Ultimamente come potete vedere ha fatto anche dei vlog per altri youtuber Quindi se volete un vlog per il vostro canale Andate da lui molto tranquillamente Ha fatto diciamo fa anche moltissimi vlog E ad esempio anche la reazione ai miei vecchi video Quindi se volete farvi qualche bella risata così Tutta bella partita Andate da Palaya e fate conoscenza Benissimo ragazzi Anche il video di oggi può terminare qua Io mi scuso ancora veramente ragazzi Però capitemi quando non ho tempo Io cerco di portarvi sempre più video possibili Però per me è veramente difficile ultimamente Ultimamente Diciamo 95% domani Un bel videozzo di quelli seri Potenti, caricati Ve lo porto sicuramente E niente regà Io come al solito Vi mando un bacione Un abbraccione Noi se vi vedremo al prossimo video E niente Ciao Ciao